Buongiorno a tutti, siamo qui a Solier, in anteprima c'è tutta l'esposizione show-in di Luigi, ha fatto una roba incredibile, quasi 20 metri, forse più di 20 metri. Luigi, che dici? Ma devo dire che qui a Solier è verità una mostra così di show-in e sono soddisfatto di quello che ho fatto. Arrivederci a tutti, a presto.